Allora ragazzi, oggi vi voglio parlare di un articolo che si chiama Teleprofter. Questo prodotto è veramente molto utile e comodo per chi fa l'attività, come ad esempio la mia, cioè lo youtuber. Infatti ragazzi, facilita molto il lavoro per la descrizione di qualsiasi prodotto o articolo che noi vogliamo recensire. Perché ragazzi? Perché l'articolo precedentemente preparato viene letto su uno schermo trasparente e riflettente. E adesso ragazzi vi spiego meglio. Il Teleprofter è costituito da ben due parti, una parte superiore che non è altro che una camera oscura, dove viene uno schermo trasparente e riflettente sul quale viene proiettata la scrittura che precedentemente abbiamo realizzato, inserita su uno smartphone o su un tablet. Inoltre ragazzi, sotto c'è un treppiedi che serve appunto a sorreggere il Teleprofter. Inoltre ragazzi, tutto realizzato con ottimi materiali, soprattutto la parte del software, che è quella che permette di leggere l'articolo precedentemente preparato da noi. Inoltre è ben fatto ed è facilissimo da utilizzare. Troviamo anche un piccolo telecomando che ci permette di far scorrere l'articolo precedentemente realizzato. Che altro vi posso dire? Che vi posso garantire che facilita moltissimo il lavoro. Per la descrizione di qualsiasi prodotto ve lo posso garantire. Io ad esempio lo sto utilizzando da circa due video. Vi posso assicurare infatti che mi sono trovata molto bene, top. È facile da utilizzare e soprattutto ci fa risparmiare tantissimo tempo. Lo dico io che lasciamo perdere ragazzi. Ok, ragazzi, cosa posso dire? Che per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. E niente, ci vediamo in un prossimo video. Un bacione da Alessandra. Ragazzi, adesso vi faccio vedere il teleprompter. Guardate un attimo. Guardate. Allora, qua abbiamo lo schermo riflettente. Vedete, è il doppio quindi lo schermo. Qua abbiamo il piano dove è appoggiato il nostro dispositivo. In questo caso è il nostro smartphone. con tutto, tutto quanto, tutte le scritture che abbiamo preparato precedentemente. Poi qua dietro abbiamo un'area, una parte, dove possiamo inserire ad esempio una telecamera o un telefono che registra per fare i video. Questo è il nostro treppiedi che possiamo regolare come ci pare. Quindi possiamo alzarlo, inclinarlo, abbassarlo. e poi vi faccio vedere il telecomando. Eccolo qua, ragazzi. Vedete, questo è il telecomando che vi ho fatto vedere prima, il volo. E qua possiamo regolare la velocità e tante altre funzioni. Vedete, è così, è piccolino. E niente, questo è l'articolo di oggi. Ciao ragazzi! Ciao!